Solo le analisi medico-legali potranno dare un nome ed un molto al corpo della donna ritrovato ieri pomeriggio in avanzato stato di decomposizione, lungo il greto del fiume Ufita, Trapice, Melito, Espino e Monte Calvo. I resti, privi di braccia ed un piede, sono stati rinvenuti da un agricoltore mentre stava lavorando un suo terreno, a ridosso del corso d'acqua che nasce dalla baronia. Una scena raccapricciante quella che si è presentata agli occhi dell'uomo e dei carabinieri a corsi sul posto. Dopo un primo sopralluogo del medico-legale non ci sono stati più dubbi che si trattasse di una donna, irriconoscibili, tratti somatici ed altre caratteristiche del corpo, straziato probabilmente oltre che dall'acqua, anche dagli animali selvatici. I resti si trovano ora nell'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento ed oggi pomeriggio il medico-legale, incaricato dalla procura Sannite, effettuerà una prima visita esterna. Tra le ipotesi quella che si tratti di una 42enne scomparsa da Grotta Milarda il 18 dicembre scorso, solo un'ipotesi allo Stato che attende conferme o smentite proprio delle analisi di medicina legale, o da qualche elemento che potrebbe emergere nella serata di oggi e che sarà sicuramente sottoposta ai familiari, che ormai da mesi attendono di conoscere le sorti della congiunta sparita. Al vaglio degli investigatori tutte le denunce di scomparsa, fatte nei paesi confinanti con la zona San Lorenzo di Apice e con il fiume Ufita. Non escluso infatti che il corpo possa essere stato trasportato via dalle correnti durante le piene delle scorse settimane.